Ciao a tutti, oggi vi parlo di Mary Shelley e del suo Frankenstein. Innanzitutto Frankenstein è un romanzo epistolare, viene narrato attraverso delle lettere e qui già il lettore moderno è abbastanza spiazzato perché non si vede calato subito nella storia della creatura. Le lettere sono un espediente molto usato tra 700 e 800 per i romanzi. La struttura del Frankenstein è molto particolare perché abbiamo un esploratore che scrive alla sorella, un esploratore del Polo Nord, Walton, che scrive alla sorella in Inghilterra e nel suo racconto scritto per lettera Viktor Frankenstein parla in prima persona della sua storia perché questo esploratore incontrerà sui ghiacci, Viktor Frankenstein lo fa salire sulla nave e da qui parte il racconto della storia. Nella parte centrale del romanzo però sarà la stessa creatura di Viktor Frankenstein a raccontare anche lui in prima persona la sua versione della storia, quindi una serie di cerchi concentrici, di spirale, di punti di vista molto particolare. Ma questa struttura a suo modo geniale, da dove nasce, chi l'ha scritta, chi era Meriscelli? Allora, forse non tutti sanno che questa storia nasce per colpa di un vulcano. Infatti nel 1815 il vulcano Tambora, situato da qualche parte nel mondo, erutta con una tale potenza e diffusione di polveri tali da schermare i raggi solari a tal punto che nel corso del 1816 l'estate fu molto fredda. Infatti viene ricordato come l'anno senza estate. In questa estate freddissima del 1816 troviamo sul lago Lemano, in una villa, una allegra compagnia composta da Lord Byron e tutto il suo serraglio di animali esotici, Percy Shelley con Mary Shelley, Claire Claremont e il medico di Byron, John William Polidori, che hanno fatto un po' la vita delle rock star per qualche tempo lì insieme, in riva al lago, quindi un po' diciamo c'era una situazione un po' da sesso droga e rock and roll. Rock and roll però rappresentato chiaramente non dalla musica, ma dalla lettura di storie di terrore tedesche che andavano per la maggiore in certi ambienti del periodo. Infatti questi ragazzi, perché di ragazzi si tratta, Mary aveva 19 anni e gli altri della compagnia pochi di più, non sapevano cosa fare, pioveva sempre, era freddo, quindi stavano in casa. Hanno l'idea quindi di scrivere anche loro un racconto del terrore, intanto che erano lì reclusi, visto che erano degli scrittori, dei poeti. Da questa situazione emersero però solo due scritti che diventarono famosissimi. Diciamo che quelli di Byron e Percy Shelley, se mai furono scritti, non sono stati tramandati alla posterità e quindi ci rimangono. Il Frankenstein, che poi fu sviluppato e diventò quello che conosciamo, e il vampiro di John William Pollidori, che chiaramente è il progenitore di tutta la letteratura sui vampiri. Il sogno come ispirazione per scrivere una storia è abbastanza frequente, soprattutto nella letteratura del periodo. Non ultimo, Coleridge, che scrisse il Kubla Khan, proprio dichiarando che la poesia, questi frammenti, gli vennero in mente mentre dormiva. Coleridge è molto importante perché la sua Rhyme of the Ancient Mariner viene citata nel Frankenstein stesso, e addirittura Mary Shelley poteva sentirla raccontare, proprio dalla narrare, recitare dalla voce di Coleridge a casa sua. Questo perché? Perché Mary Shelley è figlia di due personaggi molto importanti per la letteratura e la cultura, il pensiero del tempo. Infatti Mary è figlia di Mary Wollstonecraft Godwin, filosofa, anche lei, scrittrice. Purtroppo Mary Wollstonecraft morì una decina di giorni dopo la nascita di Mary, quindi Mary non ebbe la possibilità mai di conoscere sua madre, se non attraverso gli scritti, che includono anche la celeberrima difesa dei diritti delle donne. Il padre invece, William Godwin, fu un filosofo che ispirò tutta questa seconda generazione di romantici, appunto Shelley Byron fu apprezzatissimo da loro. Mary conobbe Shelley proprio nel giro di queste conoscenze del padre, e li ritroviamo quindi nell'estate del 1816 sulle rive del lago con Byron e un bambino di sei mesi. Ora pensate a questa ragazza di 19 anni che in questa estate molto fredda, con un bambino di sei mesi e con alle spalle ancora fresca la morte della sua prima bimba, scrive la più grande storia gotica. I temi ci sono tutti, ci sono le emozioni portate all'estremo, c'è un mostro che peraltro non viene mai chiamato mostro ma creatura, ci sono assassini, ci sono ragazze innocenti accusate di aver ucciso dei bambini, ci sono personaggi turchi, quindi tutto il tema dell'esotico, c'è la passione e l'ossessione che porta alla follia, quella appunto di Victor Frankenstein per la scienza, c'è il fascino delle rovine e dei paesaggi di montagna e dei poli glaciali. Il Frankenstein non è una storia di fantasmi, abbiamo detto non è un horror story di spettri, non ci sono castelli con laboratori nella stanza più alta, non ci sono fulmini, ma è ispirata alle novità scientifiche del tempo e soprattutto il racconto di un'ossessione, di varie ossessioni anzi. Innanzitutto l'ossessione di Victor Frankenstein per la scienza, la sua sete di sapere lo porta a ricercare le origini stesse della vita e la creazione di un essere umano. al quale dà la vita e che poi vuole distruggere perché non è come se l'era immaginato. È l'ossessione di Walton per la gloria data dalle scoperte geografiche, in questo caso il polo nord, ed è l'ossessione anche della creatura di Frankenstein per la vendetta contro il suo creatore, che là prima lo crea e poi lo abbandona. Al tema dell'ossessione se ne aggiunge un altro che è molto importante, che è stato molto indagato nella letteratura di tutti i tempi, che è il tema del diverso e della dualità. pensiamo solo ai secoli più vicino a noi, nel 1800 oltre alla creatura di Frankenstein, ritroviamo anche Pinocchio, Dracula e l'uomo invisibile di H.G. Wells. Quindi già vedete che sono dei diversi che conosciamo benissimo. Nel 900 questa idea si sviluppa nei romanzi di Kafka, pensiamo a Kafka e al suo scarafaggio della metamorfosi, pensiamo all'Orlando della Virginia Woolf e più vicino a noi nei romanzi di fantascienza troviamo personaggi come Thomas Jerome Newton dell'Uomo che cadde sulla Terra o Roy Betti poi portato, conosciuto attraverso il film Blade Runner, ma che in origine era l'androide personaggio di un libro di Philip Dick, fino ad arrivare ai giorni nostri con i tre ragazzi protagonisti di Non lasciarmi di Ishiguro. Questa storia ha lasciato molto in eredità fino ai giorni nostri, sia nella letteratura sia in altre arti. è stata rielaborata interessando il cinema, il fumetto, la televisione e perfino i videogiochi. La prima rappresentazione teatrale risale addirittura al 1823 e fu vista anche da Mary Shelley. Dell'inizio del secolo, del secolo del Novecento intendo, è proprio il primo film del 1910, quindi agli albori proprio del cinema. Ma il film che creò, in questo caso è proprio il caso di dire il mostro del nostro immaginario, fu il film del 1931 con Boris Karloff, fino ad arrivare alla versione di Kenneth Branagh nel 1994. Nel 2011 fu fatta una versione teatrale molto bella per la regia di Danny Boyle, che è quello di Trainspotting, con Johnny Lee Miller e Benedict Cumberbatch che si alternano nei ruoli di Victor e della creatura. Fu portata a teatro anche all'inizio dei primi anni 70 come Rocky Horror Show, quindi una rilettura trasportata anche in musica come musical appunto, reso poi famoso anche un paio d'anni dopo con il film The Rocky Horror Picture Show che continua ad essere visto con grande piacere. Bene, io quindi vi consiglio di leggere Frankenstein di Mary Shelley.